Indossare la maglia del gelacalcio per un nisce mese, molto vicino dunque alla realtà calcistica nissena, cosa rappresenta e ti chiedo anche per quale motivo hai subito voluto indossare questa maglia? Per me è un onore, è un piacere visto che sono di niscemi, tra l'altro ci sono due nisce mesi, Alma e Bonaffini, e per me è un onore perché ovviamente è una città che la sento, che fin da piccolino ci ho sempre giocato nel settore giovanile sempre contro e sempre l'ho visto in una grande realtà, addirittura giocavo lì al Presti che era in terra abbattuta, che trovo qualche pesciolino, perciò per me è un onore, dopo tanti anni sono ritornato nella mia terra, ben 17 anni che manco da niscemi e per me è un orgoglio. Cosa punta il Gera? Considerato che tu conosci il campionato di Serie D in maniera molto approfondita per averci giocato in più di un'occasione, è una squadra che può puntare realmente all'alta classifica oppure bisogna accontentarsi di una salvezza? Questo facendo si vedrà un po' tutto e stiamo lavorando per questo, il mister giorno dopo giorno ci sta inculcando un po' la sua mentalità, che io non lo conoscevo a parte di cui parlavo con Alessandro e Giuliano e seguiamo il suo lavoro, è un grande lavoratore, io credo che possiamo fare molto bene e poi il campo dirà la sua. Ecco ma non ho risposto alla domanda, a cosa si punta? Ma ad oggi a cosa si punta? Siamo qua, stiamo lavorando, non le posso dire ovviamente uno sempre punta a far bene, a vincere, quello sicuramente. Speriamo, siamo qui per far bene, ovviamente per divertirci e per la città che si merita un grande palcoscenico anche perché sono venuto tanti tanti anni fa a vedere lo spareggio della C2 mi sembrano che, perciò speriamo in positivo, dai. Il tuo cuore ha sempre battuto bianca-azzurro? Sì, sono venuto a vedervi parecchie volte e ovviamente è una città che non posso dimenticare, ve le ripeto perché ho fatto tante battaglie, visto che a Niscemi purtroppo un po' a livello calcistico siamo un po' indietro e GEL è stata sempre una piazza ambiziosa per tutti i nicemesi.